La GEAS R.S.P.A. è la società che gestisce l'aeroporto di Olbia, costo Smeralda. L'aeroporto ha una popolazione attiva di circa 3.000 persone. Passiamo da 30.000 passeggeri a febbraio a 600.000 passeggeri ad agosto. Noi dobbiamo cambiare il nostro management approach a seconda delle stagioni. Basandoci sulle tre colonne della nostra vision, che sono l'innovazione, la customer experience e la sostenibilità, abbiamo deciso di dotarci di un sistema che potesse in qualche modo gestire una mole di dati molto complessa e in continuo cambiamento. Il nostro obiettivo è prendere decisioni in tempo reale su una serie di attività totalmente diverse fra loro. Si passa da attività prettamente aeroportuali, di assistenza ai voli, gestione dei passeggeri, ma anche attività commerciali. S4ANA ci permette esattamente questo, di integrare all'interno di una piattaforma vari tipi di soluzioni. Sappiamo che SAP S4ANA ha la possibilità anche di integrare dei tool di intelligenza artificiale all'interno della piattaforma. Questa è una cosa molto interessante, soprattutto per gli aeroporti, in quanto con questi tool possiamo adattare la nostra attività ai comportamenti dei passeggeri. Quindi è un sistema che impara a seconda del profilo del passeggero e della stagione. Abbiamo deciso di ridurre drasticamente l'utilizzo della carta nelle nostre attività di management. Recentemente ognuno vedeva i propri dati e gestiva i propri dati. Oggi ha la possibilità di avere i dati suoi, ma anche delle altre attività gestite da altri colleghi. Ci dà la possibilità anche di scambiare facilmente dei dati da una società all'altra. Con SAP S4ANA anche per me è molto più facile prendere decisioni insieme ai miei colleghi in modo rapido e in modo anche più cosciente. Abbiamo in programma una crescita costante in futuro e per questo abbiamo bisogno di un partner solido. Ecco perché abbiamo scelto SAP S4ANA per accompagnare la nostra crescita.